tu ascolta non lo sai che gli ho portato una patata guarda non sei solo bravo bravo non si sventisce mai sono 50 anni che mi insegue ha un'energia da vendere però è soffocante soffo ma veramente tra niente di concentrata sono 3, 2, 1 basta grande maestro io la inviterei darei mille